avanza attaccato da Vidal fallosamente è vero che Ilici c'è lontano da Matri però è il pregio della Fiorentina attenzione perché Pisan vanno tanto d'accordo mani addosso, spintoni adesso tutto ok con Kuiperz che li va a richiamare non c'è stretta di mano a fine discussione Kuiperz continua a parlarci su